guardate come brilla il mio lighter fino alla luna ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video oggi mi trovate tra l'altro con un look particolarmente natalizio ho voluto provare la nuova palette di Mulac, mi piace tantissimo la scrivenza pastesca dato che non ho mai fatto questa tipologia di video ho pensato di unire i preferiti e non in un unico video fatemi sapere se siete interessati anche a sentire i miei preferiti, a sapere quali sono i miei preferiti del periodo perché è un botto che non faccio questo tipo di video però non so mai se riescono a esservi utili, se vi piacciono o meno aspetto i vostri commenti qua sotto prima di iniziare però col video ci tenevo a dirvi una cosa che so che forse in tantissimi stavano aspettando che tornasse ossia la posta di gloria ci ho pensato tantissimo una cosa che mi ha sempre fatto piacere fare però quando iniziavate a diventare tanti non facevo mai uno o due saluti facevo veramente tutti i saluti che mi chiedevano quindi stavo tipo un quarto d'ora a salutare le persone però ho pensato di ritornare con la posta di gloria a ogni fine video sceglierò, estrarò a caso random 3, 4, 5 saluti e ogni fine video vi saluterò quindi ritorno alla posta di gloria la posta di gloria iniziamo subitissimo perché sono super super gasata in più devo farvi vedere una roba e la proverò sicuramente su Andrea useremo cavi a Andrea per questa cosa la cosa che sto amando tantissimo è questa mascara qua di Mulac il gentleman mascara mi piace tantissimo perché ha uno scovolino enorme mi piacciono le scovolini grossi sono pochi quelle mascara che riescono ad acchiappare il prodotto sullo scovolino in silicone questo mi piace tantissimo, è anche curvato quindi è comodissimo nonostante sia enorme per mettere anche il mascara sulle ciglia inferiori senza macchiarsi ovvio, io sono gloria, ogni volta mi macchio però pieno, pieno di prodotto ed è super nero e mi fa le ciglia bellissime questo mascara qui dell'Aeco è stato inviato però purtroppo non mi piace gli ho provato a dare tre volte un'occasione quindi tre occasioni gloria non mi piace purtroppo ha quel qualcosa che molto probabilmente il prodotto che non è buono perché non mi tinge, non mi colora e non fa assolutamente niente alle mie ciglia non le curva non le fa né drama e neanche curl cioè proprio zero mi spiace Aeco ma no un altro prodotto che amo che sto adorando alla follia e che mi fa venire voglia di mettere le ciglia finte è la colla di Huda Beauty vi giuro non pensavo fosse così figa sapete quelle colle che trovate quando comprate le ciglia finte in mini size mi chiedete sì vabbè tanto appiccica la mazza e invece è molto molto bella tra l'altro è nera quindi è la prima volta che provavo una colla nera si asciuga subitissimo ne basta veramente poca e in più vi fa anche quella sorta di eyeliner e canmuffa molto bene l'attaccatura la valossa in più c'è tantissima ho proprio bocciato mi fa proprio schifo io non so chi è che possa amare questa colla ossia la duo la duo è una io metto la colla ci metto 80 anni ad asciugarsi di Vinavi Lacquosa e si staccano cioè le ciglia non durano si staccano dopo neanche 10 secondi che ce le ho su costa un cifro e a me non piace è super bocciata ritorno alla riscossa il prodotto Mulac questo qua invece è il brow pot ed è della tonalità perfect brown questo qua è coleta perfect brown ha una colorazione né troppo fredda né troppo calda che sta da dio con il mio colore delle sopracciglia fin da subito li ho trovati a parte scriventissimi con una texture non pastosa secondo me è molto meglio perché riescono a durare un po' di più si asciugano in minor tempo quando appunto ce li avete nel pot però una volta che li avete stesi si asciugano subito e durano tantissimo quindi super super promossi super super bocciata invece lei la matita di NYX non boccio la matita in sé io boccio la tonalità che io ho comprato so che è difficile da credere a Michui però l'ho comprata raga ci sono rimasta di merda perché il colore all'inizio sembrava giusto ho detto ma si sembra figo l'ho swatchato in realtà è un arancione che manco i miei capelli c'è veramente troppo troppo forte come sfumatura come base per dare un po' di colore alla base poi usavo quello di Mulac sopra adesso non lo uso più perché è veramente troppo poi con questa ricrescita scura non ci sta bene promosso invece sempre di make up face love light blinded by the light la tonalità quindi è uno champagne freddo bellissimo mio dio raga cioè scrive come non so cosa a parte la confezione di questo highlighter è qualcosa di wow luce pura e una volta che lo andate a stendere soprattutto se prima ci spruzzate 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 quello che volete insomma dell'acqua non lo so vi fate sputare addosso da qualcuno e poi mettete l'illuminante proprio tipo con la cazzuola vi risalta lo zigomo che manco le statue di cera di Madame Tussauds ma boccio questo che è un Hydra Matte di Gerard Cosmetics io non so se avete mai provato gli Hydra Matte di Gerard Cosmetics li usavano praticamente in mezzo a Youtube appena lo stendo cioè la gente dice che i color pop le tinte di color pop sono secche ma questo è come stendere la farina pura sulle labbra cioè è come se state impanando le labbra pronte per essere fritte no 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 a parte che il colore è completamente a macchie cioè almeno questo colore qui che io sto bocciando è Wine Down secondo me questo è stato ideato dai dissennatori perché veramente appena lo stendete sentite tipo il dissennatore che vi sta rubando tutta la gioia dalle vostre labbra ed è una cosa tristissima perché il colore è molto bello promuovo lui e voi direte ma che cos'è siamo arrivati al punto clou esatto promuovo questo prodotto che veramente secondo me vi cambierà la vita se avete le orecchie appunto all'infuori dette orecchie a sventola che è veramente molto triste dire orecchie a sventola però le chiamano tutte così che i difetti sono belli anche se sono difetti perché ognuno ha un difetto che lo rende particolare diverso dalla massa se è una cosa che ci può causare problemi allora sì altrimenti se è una cosa che potete conviverci tranquillamente o trovare una soluzione senza arrivare alla chirurgia questa cosa veramente cambierà la vita a tutte le persone che io posso capire che per loro sia stato un disagio andare in giro con le orecchie comunque all'infuori rispetto a chi non ce le ha all'infuori ed essere perculato voi trovate questi celotti anche in farmacia a me sono stati inviati per poterli provare e parlarvene e siccome voi direte ma Gloria tu non ce li hai le orecchie all'infuori le ho voluto parlare perché potrebbe veramente aiutare qualcuno di voi allora questi qua si chiamano auto stick sono dei celotti delle protesi in silicone unisex e evita la separazione eccessiva delle orecchie e sono monouso ma la cosa figa è che voi direte sì ma picci con celotte e via raga io ho guardato il tutorial di come si mettono sti cosi adesso ve lo farò a vedere su Andrea questi praticamente li potete tenere dai 4 ai 7 giorni cioè potete farvi la doccia potete lavarvi i capelli questi rimangono attaccati alla vostra pelle dietro l'orecchio per 4-7 giorni e wow mi hanno dato questi qua da usare e farvi vedere come si usano appunto praticamente è un cerotto un pezzo in silicone un tubicino in silicone e di nuovo cerotto ho visto il video di tante ragazze anche da tante review di persone che le hanno usate che piangevano è stata una cosa bellissima perché io capisco il disagio che può comportare avere questa cosa e quindi spero davvero di aiutare qualcuna di voi e spero di aiutare una di voi perché questo pacchetto chiuso questo qui lo voglio regalare a una di voi che ha questa caratteristica quindi scrivetemi e estrarrò a caso la persona che vincerà questo pacchettino dobbiamo togliere prima questa parte qui si toglie anche l'altra parte e come vedete c'è questa cosa trasparente dopo che si è attaccata questa parte adesso non mi ricordo però se nel video avevano attaccato prima l'altra parte o poi questa ok praticamente qua il cerotto è attaccato ma non si vede niente però te le ha spinte oh mio dio te le ha spinte guardiamo ce l'ho più attaccato io non lo voglio così attacco e per tutte quelle persone che si stanno chiedendo se si vede ovviamente Andrea è senza capelli perché si rirade e cioè non si vede cosa boccio invece boccio lui Batiste che è tipo la quarta volta che compro una roba del genere e la compro perché mi capita veramente rare rare volte perché io preferisco di gran lunga lavarmi a volte ci sono quei momenti quelle giornate in cui dovete per forza uscire di casa e avete i capelli merdosissimi e non sapete come fare e legarli non se ne parla perché comunque fanno schifo anche legati un cappello no perché sporco il cappello e quindi ho detto vabbè prendiamo lo shampoo secco e ho preso questo qua dalla Batiste credo abbiano cambiato la formulazione credo che abbiano cambiato quello che c'è dentro capelli perfetti sono i tre minuti in amazza no perché io ho provato a spruzzarlo comunque anche da lontano e mi lascia anche qui la farina quindi secondo me questi due sono stati inventati dalla stessa casa madre perché farina portami via love I love farina in fatto di maschere è questa di Glam Glow questa qua è la Power Mud dovrebbe essere quella detossificante adoro tutte le maschere di Glam Glow mi piacciono veramente tanto 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 e le ho usate tutte come potete vedere l'ho usata ce n'è pochissima perché comunque anche se non mi piacciono le cose le voglio finire perché è un peccato o le regalo o le finisco io e questa ce n'è ancora un po' ragazzi ha un odore che vi giuro mi fa venire la nausea è stucchevole e vi rimane tutto questo odore per 15 minuti quando la tenete stucchevole in faccia e anche quando la togliete rimane questo odore che però mi piace come mi lascia la pelle quindi per questo ho continuato a farla perché vedo che la mia pelle si detossifica in realtà quindi è solo l'odore che non mi piace non so credo anche qui aspettavano parecchie ragazze e ragazzi che non riescono a dormire io pensavo fosse una grandissima cavolata ma non mi faccio dormire neanche un quarto d'ora io di solito ci metto un'ora un'ora e mezza due ore ora che mi addormento perché tipo sono lì nel letto e wow che palle non riesco ad avere sonno mentre con questi che sono degli spray della marca This Works che trovate da Sephora anche online questo qua è Deep Sleep quindi lo spray lo spruzzate sul cuscino prima di andare a dormire e quest'altro invece sulle coperte sulle lenzuola in otto ore loro emanano lavanda e tutte queste cose credo naturali regnato come prodotto appunto che fa dormire che sostituisce anche farmaci quando lo utilizzo riesco ad addormentarmi in un quarto d'ora massimo mezz'ora e poi mi toglie tutti i pensieri dalla testa sembra una cavolata vi giuro vi giuro che non penso a niente cioè riesco a star lì a godermi il sonno e le coperte come quando la mattina non ho voglia di svegliarmi e la cosa bella è che dormite fate una tirata senza svegliarvi di notte soffro anche di terrori notturni però questi qua da quando li ho usati quelle volte che li ho usati non mi sono svegliata di notte non ho fatto cose da sonnambula e non ho urlato non ho fatto incubi quindi stra promossi ve li straconsiglio oh mio dio ce l'ho fatta raga questo era tutto io spero che questo video vi sia piaciuto nel senso vi abbia dato un po' di info in merito a quello che mi piace e quello che non mi piace fatemi sapere con un bel pollicisto se questo video vi è piaciuto e ovviamente commentate sia per autostick per avere in regalo questo e sia per sapere appunto se volete i preferiti e se questo video vi è piaciuto e scrivete quello che volete gli hashtag delle parole stupide che ho detto in questo video scrivete già qua i commenti con voglio essere salutato ciao ciao